Il gruppo non l'abbiamo mai perso e quindi domenica l'abbiamo dimostrato perché come gruppo siamo un gruppo determinato e molto unito tra di noi. Quindi quella è la prima cosa che ci dobbiamo portare dietro fino alla fine. Ci stiamo allenando bene così come l'abbiamo sempre fatto perché poi ci siamo sempre allenati al massimo giorno dopo giorno non trascurando mai niente. E quindi così come abbiamo fatto per la partita di domenica l'abbiamo preparata, la stiamo preparando e cerchiamo di andare lì a fare il risultato come sempre. È una partita molto complicata perché loro sono la seconda miglior difesa e andiamo da loro e sarà una bella partita, una bella battaglia. Noi l'abbiamo preparata, la stiamo preparando bene quindi andremo là sicuramente per dare il nostro contributo al 100% e cercare di portare a casa i tre punti.